Andiamo, Blue. Credo sia ora di andare a dormire. Buonanotte, meccanici! Bobby! Che cosa fai qui a quest'ora? Oh cielo, serve una ruota nuova! Posso pensarci io, però dobbiamo fare silenzio. Ci è mancato poco! Non, 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 non! No! No! ecco fatto bobby buonanotte beh mi sa che mi sdraio qui un minutino ecco fatto eric va meglio adesso cos'era quello è max il monster truck non dovrebbe giocare qui i cantieri edili sono molto piccolosi guardate quanti posti ci sta combinando oh no max ha finito la benzina dobbiamo tirarlo fuori prima che il cemento si solidifichi veloci meccanici prendete una panica di benzina oh cielo il cemento diventerà duro in meno di un minuto come posso fare a portare questa panica di benzina fino a max oh eric fa da ponte il cemento si è quasi solidificato vai max vai sembra che max abbia imparato la lezione grazie max un'altra emergenza è risolta alla prossima volta ciao ma cosa sarà mai successo qui mamma mia oh signor weasel è tutto intero ho reso vicky il furgoncino dei gelati più veloce del mondo ma è partita a razzo ancora prima di darmi un gelato oh bisogna fermare vicky prima che causi ancora altri danni oh eccola che arriva pronto blu oh blu presto bravi impulsare oh blu presto bravi impulsare super男 levante o blu presto bravi ipca pieno andare zo ah uzzi ah uff ah uff venue remo ben fatto blu E così adesso darà a lui il mio gelato! Io odio i razzi! Andiamo, meccanici! Vediamo se Weasel sta bene! Ci vediamo presto! Ciao! Bel lavoro, meccanici! Ora la nostra officina è bella pulita! Oh! Sembra che stia arrivando un cliente! È la famiglia Camion! Mamma Camion, mamma Riciclo e Camioncina! Che non sembra molto felice! Un dentino traballante? Niente di cui preoccuparsi, Camioncina! Quando ti cadrà, potrai metterlo sotto il cuscino! E al tuo risveglio troverai una moneta d'oro! Oh no! Camioncina ha starnutito via il suo dentino traballante! Non preoccuparti, noi lo troveremo! Su, su, meccanici! Spiacente, verde! Quello non è un dentino! Sta' attenta, gialla! Oh, abbiamo cercato per tutta l'officina! E non c'è traccia del dentino di Camioncina da nessuna parte! Aspettate un attimo! C'è un posto dove non abbiamo guardato! Ed è nello spolverino di blu! Ecco qua, Camioncina! Ora va a casa e mettilo sotto il tuo cuscino! E noi ci vediamo presto per altre elettrizzanti avventure all'officina di Geko! Ciao! Ciao! Ah, è così bello stare in vacanza! Io adoro il campeggio! Oh, la fiamma si è abbassata! Gialla, prenderesti altra legna, per favore? È il momento di una storia! Credo che il libro delle storie sia nella roulotte verde! Grazie, Gialla! Aspetta un momento! Quelli sono i blocchi delle ruote! Il che significa... Presto! Dobbiamo fermare la roulotte! Deve esserci un modo per riuscire a fermarla! Grazie, verde! Per mille bulloni svitati! Oh, complimenti a tutti! Emergenza finita! Sì, verde! È l'ora della storia, adesso! Ci vediamo presto! Ciao! Per tutti i cacciaviti a croce! Chi potrebbe essere? Oh, ciao, Rana! Probabilmente non hai notato la mia nuova auto! Lui è Sylvester, o Sly per gli amici! Ciao, Sylvester! Molto piacere! Ah! Scusateci tanto! Qualcuno ha bisogno d'aiuto! Dylan ha problemi al cantiere edile! Vi aiutiamo noi! Arriveremo in men che non si dica! Oh, cielo! Credo che dovremmo andare comunque! Su, su, Tilly Carrotrezzi! Mi chiedo se possiamo aiutare Dylan senza avvicinarci a... Quell'orrido fango! Ah! Non quel pulsante! Sapevo di farcela! Tira, Sly! Devo davvero fare tutto da solo! Oh, tirami fuori, Sly! È tutta colpa di questo terribile fango! Tranquillo! Ti libereremo presto! Svelti, svelti, meccanici! Forse ti va di far visita al mio autolavaggio, Sly? E ovviamente puoi venire anche tu, signor Weasel! No, grazie! Ci vediamo molto presto! Ciao! Ciao a tutti! Oggi Fiona l'autopompa fa la revisione! Oh, è stata una lunga giornata! Scusatemi! Ora, che si fa, meccanici? Oggi? Oh, è stata una lunga giornata! Scusatemi! Scusatemi! Oh! Sì! Credo che sia tuo, Blue! Allora, che cosa c'è da fare adesso? Tutto fatto! Per tutti i cacciabiti a croce! E stavo veloce! Ciao a tutti! Camioncina è qui per giocare con i meccanici! Vi raggiungerò presto! Devo solo finire di cambiare le ruote a Fiona all'autopompa! A qualcuno serve una mano! Oh no! C'è un incendio e Fiona non può intervenire! Le sue nuove ruote non sono ancora arrivate! Che cosa facciamo? Ho trovato l'autolavaggio! Camioncina, ti piacerebbe essere un'autopompa oggi? Svelta, piccola autopompa! Tranquillo, Trevor! Non avere paura! I pompieri di Jacko sono arrivati! Oh no! C'è una perdita! Prendi il mio posto, Rosso! Tutto risolto! Figurati, Trevor! E ottimo lavoro, piccola! Sai essere davvero un'ottima autopompa! Ciao a tutti! Che è successo, meccanici? Un altro cliente soddisfatto! Oh no! È un disastro! Cosa c'è che non va, signor Weasel? È Sly! La mia preziosa automobile ha una macchia nera! Sly è il benvenuto nel nostro autolavaggio! L'autolavaggio Weasel è superiore al vostro! Sbrigati, Sylvester! Smettila di indugiare! Posizionati qui! Oh no! Non io, miserabile robot! Sly! Avanti, fa qualcosa! No! Oh no! Che pagliaccio imbranato! A Sly serve aiuto! Blu! La cassetta degli attrezzi! Blu! La chiave inglese! L'autolavaggio di Weasel è impazzito! La chiave inglese! Da! Allora! Tutto ok, signor Weasel? Ma è stato meglio Ne sono felice Ops! Ha dimenticato questa? I... Ottimo lavoro, Kat Grazie, Jacob Siamo qui alla base di Kat Perché oggi è il suo compleanno Le abbiamo preso un'enorme torta Ma... Lei ancora non lo sa Gialla! Vamos, Elena C'è un salvataggio da fare Tranquilla, Gialla Devo soltanto sistemare il gancio Dobbiamo scendere in fretta Elena, ferma il rotore Pronto, Jacob? Quasi, quasi Sì! Un altro atterraggio sereno Buon compleanno, Kat! Grazie, amici! Adoro come hai sistemato l'officina Mio piccolo Jackie Sai, ai miei tempi era davvero molto diversa Grazie, nonna Ti stai divertendo a farti sistemare, Miles? Lo avete davvero tirato a lucido, piccolini? Aiuto! Aiuto! Non riesco a fermarmi! Il signor Weasel è nei pasticci! Nonna, aspetta! Grazie, Rosso State indietro, ragazzi! Nonna! In arrivo! Signor Weasel! Che cosa sta succedendo? Oh, l'acceleratore di Sly è bloccato! Non riesco più a rallentare l'auto! Aiuto! Nonna! Il tetuccio apribile! Se la puoi fare, piccolo! Geko! Forza! Falla fermare! Oh, scusa! Oh, sotto all'acceleratore c'è! Una gomma da masticare! Ci è mancato davvero poco! Ciucchezze! Avevo la situazione sotto controllo. Non ci sarei mai riuscito senza di te, nonna. Nessun problema, piccolo. Sei stato sveglio. Sono fiera di te. Grazie, nonna. Passami la chiave inglese. Il bullone è allentato. Meglio darci una mossa, Tilly. Non vorremmo fare tardi. Ma a porte dell'officina, apritevi in fretta. È ora di aiutare i veicoli. Inoltre a sempre con regno. Nonna. Senato. Non. Un bellissima. Un bellissima. Un bellissima. Un bellissima. buongiorno meccanici sveglia presto per un nuovo giorno di lavoro blu per mille bulloni svitati credo che sia sonnambulo sveglia blu in un'officina non è sicuro essere sonnambuli blu 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 poppy oh no hai il parabrizza crepato veloce entra dentro deve farti male va sostituito meccanici mi potreste portare un nuovo parabrizza? e fate attenzione quel vetro è molto fragile guardate il guardate il mio nuovo dente dorato e scintillante toglietevi di mezzo bidoncini jackal guarda il mio nuovo il mio dente d'oro dov'è finito non può essere l'ho pagato tanto ottimo lavoro meccanici grazie di avermelo portato ecco fatto bobby puoi andare meccanici potreste portare via il vecchio parabrezza ecco fatto rosso come nuovo sembra ieri che vi ho costruiti tutti ma tranquilli i progetti sono al sicuro qui dentro saprò sempre come aggiustarvi se riuscissi a mettere le mie mani sui progetti di jack o allora potrei finalmente creare un meccanico tutto mio e così la mia officina sarebbe davvero la migliore di tutte svegliati sly oh un piano furbetto oh sly che ci fai qui dov'è il signor weasel hai un problema con il tubo di scarico beh se il signor weasel non è qui ci penserò io prenderò quei piani prenderò quei piani mi passate le pinze per favore fattene una ragione bidoncino i piani sono miei adesso fatto ah sei a posto sly ehi rosso ti serve già un'altra riparatina a Grazie a tutti.